Una dimora storica abitata da personaggi illustri che contiene un grande patrimonio artistico e culturale. Palazzo Fucci Gianmarioli, già luogo di incontri, verrà aperto alla cittadinanza. Quando? Domenica alle 18.30 insieme alla mia famiglia abbiamo deciso di riaprire il palazzo perché in passato lo abbiamo fatto spesso. Era un po' che non organizzavamo questo tipo di evento e quindi ci piaceva mostrarlo alla città perché è anche giusto, è patrimonio storico perché è un palazzo sotto il vincolo della sovrintendenza. Quindi è corretto che tutti possano vederlo. Chi vive in quel palazzo e chi ci ha vissuto? Ma attualmente stabile ci vivo io con il mio papà e ovviamente ci vivevamo con la mia mamma e ci vive anche la famiglia della mia mamma da parte di suo padre solamente in alcuni periodi dell'anno. Beh ci sono stati, sì, hanno girato diciamo personaggi illustri nel palazzo, mi viene in mente il luogotenente di Marcantonio Colonna, piuttosto che ecco in famiglia si parlava spesso di mio nonno che intratteneva rapporti con Carducci. Quindi insomma e poi questo non ovviamente non ha palazzo ma abbiamo in famiglia un Celestino II, un papa che non è il quinto che è il papa del gran rifiuto ma è un papa che per breve tempo insomma ha tenuto il papato e quindi insomma in famiglia abbiamo anche un papa non notissimo però c'è. Quali opere e oggetti sarà possibile ammirare domenica? Sicuramente un affresco del soffitto del salone, un affresco molto carino purtroppo rovinato in una parte perché i tedeschi fecero nella mia casa tappa e lì misero la cucina quindi con tutti i fumi si è annerito in alcuni punti e non avevano molta grazia ai noi. Ecco e poi vabbè qualche chicca tipo un ombrellino del 700 parasole piuttosto che un libro molto bello che è un erbario del 600 e insomma qualche chicchettina ve la faremo vedere. Come dicevo all'inizio comunque è sempre stato luogo di incontri? Sì assolutamente magari sono grandi paroloni quelle che ci siamo dette ma in realtà la mia casa è sempre stata aperta veramente a tutti senza belli, brutti, alti, bassi, neri, bianchi, gialli l'importante brave persone. Quali dei ricordi conserva del passato? Beh del passato ricordo che la mia casa era la casa dove tutti i bambini, tutti i miei amichetti ci radunavamo per fare di tutto appunto per fare teatro, per in giardino costruivamo le tende di cartone, dormivamo dentro le tende piuttosto che mandavamo via mia mamma e mio papà dal lettone e dormivamo in cinque nel lettone. Mio papà che la notte veniva a farci paura trasformandosi in fantasma, ecco tutte queste belle cose. Oppure per alcuni anni d'estate ci rifugiavamo in 4-5 amiche nella casa, nell'appartamento dove abito io adesso in alto, nel sottotetto e dicevamo tutti che eravamo in vacanza, invece eravamo rinchiuse dentro casa, magari stavamo 3-4 giorni chiusi dentro casa, insomma tutte queste belle ricordi d'infanzia e quindi casa è sempre stata un posto di incontri per tutto il quartiere. E lo sarà anche domenica prossima? Assolutamente sì.